Ciao a tutti ragazzi, oggi ho deciso di fare un video diverso dal solito Infatti oggi farò un video e ingruparlo con voi Ma non sarò da solo, bensì ci sarà con me la mia ragazza Perché in occasione di San Valentino ho deciso di presentarvela a voi Amore, non aver paura, presentati ai miei fans Ciao a tutti, folettine e folettine, bentornati in questo nuovissimo video Come? Allora, prima di tutto io non sono sporca e mi lavo Sì, sì, questo non lo metto in dubbio Non dovete guardare il mio sento fisico E dire che sono sporca solo perché non uso creme, non uso trucchi, non mi ben letto Ma va che tu sei bellissima, più o meno Chiudo questo video, lo faccio terminare qui perché non ho altro da aggiungere Ho detto tutto quello che avevo da dire Se questo video vi è piaciuto mettete un gran mi piace Ma cosa chiudi il video che è appena iniziato? Si può sapere che cazzo stai facendo? ASMR slime Possiamo iniziare il video per il mio canale? Iniziamo Oh, finalmente Ma che cazzo Ciao a tutti, folettine e folettine Ancora? Tornati in questo nuovissimo video tag 50 fatti random su di me Numero 1 Amo follemente la pasta alla carbonara, la lasagna, la pasta al cavolo E la pizza con più delle patatine fritte Ma cosa me ne frega a me che a te piace la pizza, le patatine, gli urstel Ma cosa ne frega a loro poi? A loro, a loro! Disiscrivetevi, nessun problema No, non che io devo arrivare a 20.000 iscritti, non si devono discrivere Pazienza Ma che cazzo fa? Madonna, madonna mia, madonna mia Ragazzi, meglio che concludiamo qua Ciao 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 Ciao